Ma zia, ma è successa una cosa incresciosa, un fatto increscioso, guarda, non ti dico. Ti ricordi Alessandro Penati? Te ne ho parlato spesso, no? È colui che guida il Fondo Atlante, è colui che un po' come Superman, un uomo dotato di superpoteri, avrebbe dovuto salvare le banche italiane alleviandole dal problema delle sofferenze che zavorrano i loro bilanci. Ecco, lui, Penati, si è inalberato come una biscia e ha dichiarato che ora che è azionista delle due banche venete, popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno di nuovo bisogno di qualche miliardo di euro di aumento di capitale. Che sarà mai, sai? Ecco, ora lui si trova in una vera e propria horror story, una storia dell'orrore. Però, vedi zia, lui magari si troverà anche nella storia dell'orrore, non dico di no, però io ho paura che la vera storia dell'orrore sia già cominciata per gli azionisti delle banche venete che sono praticamente stati azzerati, cioè le loro azioni non valgono più quasi nulla. E ora questa storia dell'orrore stia per proseguire con gli obbligazionisti subordinati. E come perché, zia? Perché, se, come sembra, lo Stato entrerà nel capitale delle due banche venete, sia pure con una piccola quota, le regole impongono la conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni. Do you remember burden sharing? No, zia, non ho detto nulla, non volevo dire nulla, tranquilla. Grazie.